Ehi, guarda che cosa ho fatto. Che cosa dovrebbe essere? È un disegno. Decisamente no. Sì. Cosa? Questa è un'immagine. È una foto. No, è un disegno. Mi hai letteralmente visto farlo davanti a te. È una foto. Guarda, si prendono i segni della matita. Vedi? Guarda, chiamine. È una foto.